Nell'Ella de Gloriosa non esiste più. Nessuno in città ha pietà di te che batisci le pene più crudeli. Nei giorni scorsi, importante iniziativa culturale, la Rotta di Enea e le Giornate Virgiliane, svoltasi tra Vallo della Lucania e Pallinuro, in due ricche giornate. Ha visto la partecipazione di importanti studiosi del poeta Virgilio e l'esposizione dei lavori svolti dai ragazzi del liceo scientifico Leonardo da Vinci e del liceo classico Parmenide di Vallo della Lucania. Il programma delle Giornate Virgiliane, giunte alla settima edizione della Rotta di Enea, è stato ricco e variegato, includendo conferenze, letture pubbliche e seminari in cui il perno portante è stata la figura di Virgilio e la sua opera. È proprio in quest'autore che troviamo un sistema valoriale che ci appartiene profondamente e in Enea una guida, un faro per le nuove generazioni. In Enea c'è missione, passione, perseveranza, sa fare squadra, sa mettere in campo ogni strategia per fondare qualcosa di grande e durevole, nonostante le difficoltà e la fatica. Così come i ragazzi del liceo classico Parmenide, uniti, forti, caparbi, multiformi, che attraverso Medea, l'opera portata in scena a Siracusa, hanno saputo dimostrare che con il sacrificio e lo spirito di squadra si può superare ogni ostacolo e si possono raggiungere vette altissime. Un augurio a tutti questi ragazzi con questa settima edizione per organizzare insieme alla rotta di Enea, che è un riconoscimento europeo, un evento di taratura nazionale, anche perché abbiamo i contatti con Manto, grazie alla nostra amministrazione comunale di Centro Rapalinuro, che già hanno preso e hanno sottoscritto una carta, un manifesto. Quindi diciamo siamo in partenza di nuovo per organizzare l'anno prossimo un evento di taratura nazionale, aggiungendo al percorso in itineri tra Pestum, Velia e Palinuro.